Questo è il panettone tradizionale, viene con arancia, cedro e uberta, aromatizzato con semi di vaniglia, miele di acacia, scorza d'arancia e scorza di limone. Le persone si sono accorte che a differenza da quello industriale e quello artigianale è un altro prodotto, è veramente differente. La qualità degli ingredienti si percepisce, la lievitazione naturale conferisce un aroma e una sofficità differente al prodotto, ma soprattutto la qualità degli ingredienti e degli aromi. Ma il panettone classico va sempre per la maggiore, quello è il più amato e il più apprezzato. Il secondo gusto che più da noi viene richiesto è il gusto al trin cioccolato, quindi impasto scuro al cacao e rum e all'interno viene messo la pasta di cacao, il cacao e poi farcita con tre varietà di cioccolato, fondente, al latte e bianco e più ricoperto con una glassa di cioccolato fondente. Quest'anno abbiamo studiato un panettone al gusto di caffè e sambuca, quindi ispirati al classico caffè corretto alla sambuca abbiamo fatto un panettone con uvetta ammollata appunto nella sambuca e un impasto aromatizzato alla sambuca caffè e anice. È esagerato dire che è come un figlio ma sicuramente è un componente della famiglia perché tutti i giorni va gestito, va curato, va conosciuto, quindi è un pezzo di levitamenti. Grazie a tutti!